Con la proiezione dei film vincitori dei premi e delle menzioni speciali si è conclusa da Basanta il Sandalia Sustainability Film Festival, il primo concorso cinematografico internazionale sulla sostenibilità nato in Sardegna nel 2010. Fra i premiati anche oltre la poria, l'etno-doku cortometraggio sardo realizzato dalla filmmaker oliastrina Cladine Curreli, prodotto all'interno del collettivo Ubrec. Un esperimento audiovisivo di autorappresentazione dal basso che riporta gli sguardi e le voci di 13 persone intervistate in presa diretta durante la manifestazione contro le servittù militari a Quirra del 28 aprile dello scorso anno, in occasione di Esadieres a Sardegna, dall'Assemblea a Foras, nata nel 2016 a Bauladu, è composta da comitati, collettivi, associazioni, realtà politiche e individui che lottano per il blocco delle esercitazioni, la completa dismissione dei poligoni sardi, il risarcimento delle popolazioni da parte di chi ha inquinato e la bonifica dei territori compromessi. Alla premiazione hanno preso parte, oltre alla regista e alla direttrice artistica del festival Maria Chiara Fadda, anche gli attivisti Giovanni Salis per Emergency e Paola Floreddu per Aforas. Nato per portare una testimonianza di un lato poco mostrato delle manifestazioni di protesta, il progetto è stato realizzato con il supporto e la partecipazione del COS, Cumone o Zastra Sarrabus, dell'Assemblea Aforas, delle Menadi, del gruppo Emergency Sassari e del Poetry Slam Sardegna.